buona mattina a tutti, devo rifillare un attimo buona mattina tu dovresti mettere la luce verde? no perché è mattina mattino il verde, Marco lo sai che porta sfortuna legale porta sfortuna il verde alla mattina dovete stare molto attenti anche io voglio succiare io devo togliere sta cacata, aspetta oh, molto meglio amici, voglio andare avanti abbiamo rinsanato il martello è vero, la cassetta degli attrezzi grazie, bello abbiamo rinsanato il martello di Thor sì e basta adesso dobbiamo andare avanti da lì grazie Price, grazie Marachella grazie bellezze grazie belli dobbiamo andare avanti dal martelletto lì dal martello? questo non lo so quanti siete? grazie, ma Thomas, rinnovate tutti rinnovate comunque alla fine prenderò anche io non è che alla fine prenderò te l'ho ordinato due minuti fa ragazzi faremo qualcosina in live anche con quello qualche caccia, qualcosa dottor Cariola grazie mille dottor Cariola lui è un gran professionista tra l'altro mi ha curato lotite a me eh, dottor Cariola bello bravo allora tra l'altro io da piccolo ce l'avevo sempre lotite poi fortunatamente non l'ho più presa poi ti sei stancavo e ho detto no, basta meno male perché denti e orecchie penso siano le robe più brutte della terra Albus no, dottor assolutamente no io Marco cosa ti ho curato? la... l'Alzheimer non è vero Marco confermo amici guardatevi guardatevi Invincible su Amazon Prime si su Amazon se vi è piaciuto soprattutto The Boys perché c'è cos'è l'Invincible? l'Invincible è una serie animata che ha appena fatto Prime Video appunto e le animazioni sono bruttissime nel senso che sembra di guardare un cartone tipo Ben 10 è partito malissimo però la caratterizzazione dei personaggi e la scrittura della trama è qualcosa di incredibile ed è molto crudo tra l'altro cioè tu fino alla fine della prima puntata dici vabbè un cartone sono i supereroi di Robert Kirkman che è quello che ha fatto The Walking Dead per chi non sapesse il fumetto è suo l'ha scritto lui poi alla fine del primo episodio dici cosa sto guardando? una roba crudissima terrificante The Boys veramente io ve lo consiglio soprattutto se avete apprezzato The Boys perché il mood è quello mi sono già visto tutte e tre le prime puntate che sono 45 minuti a puntata quindi non è un cartone cioè cartone che dura 45 minuti a puntata perché è scritto bene comunque fino alla fine del primo episodio che devo fare esatto io ho guardato il primo episodio e ho detto boh ma perché vabbè è di prime video ho detto proviamo a guardarlo Invincible c'è Robert Kirkman no quasi alla fine del primo episodio ho detto boh non è che mi abbia preso tanto finisce il primo episodio e ho detto cosa ho appena visto devo assolutamente andare avanti perché li sono visti tutti e adesso ne esce uno a settimana invece ieri mi sono iniziato gli irregolari di Baker Street su Netflix non l'ho mai visto però ancora l'ho capito cos'è è carino grazie Matt troppo particolare però mi sa che lo continuo bravo bravo dai speriamo che te lo metti a posto sto ginocchio no ma stavo guardando anche lui parlando di una serie no figurati Ollo grazie mille per i 37 grazie grazie belli io sono veramente hypato per dai voglio giocare basta chiacchiere per favore alla fine ecco si è bloccato no no si è bloccato noi Marco dopo dobbiamo controllare io dovrei aver sistemato eh tema Marco dai non ho neanche toccato nessun'altra finestra oltre a quella di mattina sto giro come l'uno ma se io faccio così lo riapro no ragazzi non io non posso fare così però eh se metto le webcam di destra poi è tutto a posto metto la mattina ok forse ha funzionato dai un quadro un po' più felice sotto il tempo devi metterlo ma scusa quello lì è l'assenzio grazie mille per i sei mesi quadro famosissimo dove c'è una signora molto triste ma l'assenzio mi viene in mente la canzone di Fedez Stashy di The Color relevante quella lì eh grazie Orben Fu grazie Orben Fu avete visto l'animato di Pacific Rim? no quindi sei dentro Marco? sì sono nel gioco allora sei aspetta quale era quelle sopra le ha messo queste le sopra in teoria sì le hai switchate così però ricordi aspetta devo mettermi di là perché non sono switchate che ne sa c perché non lo so le switch un attimo datemi una pazienza perché io ero a destra vero? tu eri a destra sì io ero a sinistra oh e fammele io ero dell'arte non conosco un cacchio purtroppo non ho avuto mai modo di studiarla quindi non posso fare così sono veramente poche cose l'unico che ho studiato perché era per un esame era Michelangelo Meridio Caravaggio è l'unico che ho studiato ma comunque non mi ricordo grazie sangua però non è l'unico che ho studiato appunto perché avevo quell'esame lì se no io non ho mai studiato la storia dell'arte quindi non perfetto non avevamo dubbi ma a parte che bastardo deficiente però no nel senso non l'ho mai studiato non è che non l'ho fatto per mia ignoranza bravo grazie invita amico Marco ti invito sei d'accordo? mi sembra di sì come mi sembra vai vai devo essere sincero non mi interessa non mi ha mai appassionato se no mi ci sarei avvicinato anche nonostante non l'avessi fatto a scuola però non mi ha mai interessato più di tanto non provo tutte queste cioè per esempio io quando ascolto una canzone la gente che mi conosce lo sa sembro un poeta inizio a parlare di un sacco perché mi appassiona quando guardo un quadro dico vabbè bello disegno è un quadro cioè non mi suscita più di tanto ha usato la matita hb oh Marco è intera mi piacerebbe mi fosse arrivato qualcosa te lo rimando non l'ho applicato in vita scusa pensavo bastasse premere il più grazie Valek grazie mille per i tuoi 27 192 mesi ma no continua prego il trapano il trapano se mi metto di qua no di tutti e due di qua cosa succede non credo 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 che ne sai no ma arte moderna arte vecchia non mi sa non mi ha mai oh aspetta Marco ma che fai pesti aspetta aspetta andiamo il martello ecco perché non sto colpendo e no perché il martello l'abbiamo messo a posto siamo ripartiti cazzate cazzate veri e papere cos'era quell'RB che mi è uscito poi è scomparso e non lo so oh no Marco mi sono attaccato io sono caduto ah per cambiare rotta rotta per casa di Dio mi puzza la testa va bene oh mio Dio ce l'ha scossa non andare di là non vado adesso si ho travesta saltiamo bello questo Gardaland oh dai stavo guardando un attimo la chat questa è tosta eh no non è vero è una cazzata dopo è bella tostarella no è una cazzata questo è Crash Bandicoot sono salito sopra livelli dove caccavi sono sopra come hai fatto e sono arrivato su poi continuo però eh aspetta mio ho già sistemato il primo devi fare il secondo tu ah scusami eh one more time morelli niente dimmi fanpasti ma l'hai acceso uno si è perché sono andato di là ho fatto questo vai ah così se vai di qua poi passi da quella ah il secondo si giusto ma no Marco non l'hai fatto bisogna disattivarlo allora non attivarlo perché era già rosso no dobbiamo farlo allo stesso tempo Moro ah porca peppa aspetta aspetta arrivo eh no non dovevi andare non dovevi andare Marco non dovevi andare non vado non vado guarda bravo allora io prendo questo qua tu vai là questo è più lungo 3 2 1 via tanto ha un minimo di tempo bebe è sopa vieni qui dentro anche questo granzissimi ragazzi ancora eh ho travesse bellissimo sono gasato siamo riuniti eh sono concentratissimo ragazzi bestia ragazzi sto calcando addosso mamma mia ok ah ma guarda tuoi binoculi è amazing è quello di tuoi storie è quello di tuoi storie è un guardone questo è un voyeurista è una vecchia è una vecchia è una vecchia è una vecchia guardona che schifosa adesso fa vedere le tette molli ah no oh 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 mi sembrava morto vieni 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 è una vecchia è una vecchia una conversazione con un paio di binoculari non c'è nulla logica in questo per l'acqua non credo in spalle ma sei una cazzo di bambola perché non dovresti credere alla magia effettivamente grazie Dune Dain sempre bello ritornare sempre bello sì per noi anche grazie se è un spalle come si rompiamo? ok ho capito mi e Rose abbiamo scelto tutto questo spalle sono un virtual wizard eh sì dici un po' di spalle ho bisogno di pensare ok quindi se il spalle si rompono sulle le pezze per farmi il piffero io oh per farmi il piffero dobbiamo bere le lacrime sulle le pezze un genio eh certo ok ok abbiamo bisogno di trovare lei e farlo cricare su noi ancora cosa fanno a sapere che attraverso le lacrime è una cosa perché ha detto che ha studiato tutti gli incantesimi lui è bravissimo ma non ha vista mica piangere lei gliel'hanno detto pozza non mi ricordo ragazzi no 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 lei è in il suo bambino scarlet twits sì non l'hanno vista piangere l'altra non mi ricordo ragazzi ok grazie vabbè vabbè ma come siamo arrivati a una sala da qui è facile abbiamo scoperto il bambino E via giù nel buco Ah il binocolo l'ha vista a piangere Ah ok Mi ho perso proprio quel pezzetto Ma non lo sono perso anch'io Ma non lo sono perso anch'io Sì? Guardami E' morto Eccolo la Eccolo la Eccolo 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 Antonio Banderas Eccolo Antonio Banderas He 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 Ma smettete di fare il movimento pelvico Questo maniaco Eccolo Ok Adesso siamo Ragazzi se mi mettono i ragni io mi arrabbio Eh nell'albero ci sono cose Basta i ragni Marco Allora Zampetti Wow Eccolo Arrivo anch'io Le coccinelle c'erano anche i ragni Le formiche vedi? Me lo stanno annunciando Un attimo Marco Ho fatto cacca Anche tu eh Sì Che belline le formichine Ma E' piena di cacca la scarpa Oh mio Dio Aspetta Che succede? Vai Marco devi fare il tarzanello C'è un aeroplanino Eh Ho detto che avevo fatto questo quando ero una figlia Mi è pieno di sangue Dov'è? Lo tiro È un easter eggs? Io seguo le formiche Credo fosse un easter eggs Oh no sto correndo con il tasto di Monster Hunter Qual'è il tasto di Monster Hunter? R1 Ah che fastidio ragazzi lo devo chiedere in borsa Amaro No No Perché ti chiedi? C'erano windows Oh Ok siamo sulla strada giusta Vai Marco Che bella grafica che ha sto gioco madonna Molto si Anch'io voglio l'altalena Non è carico No non è abbastanza vicino Un altro aereo Li lancio tutti io Li lancio la No ma che mira di merda Morelli mi stupisco di meraviglio Ho sbagliato Un bungo Cos'è un bungo? Guarda che scorreggio che schifo Chiama è bella eh? Ma poi cosa sono queste robe appese nell'albero? Che schifo Ah io sono qua C'è la gran Merkel Ma no povera signora Ma che povera signora No molto ricca Probabilmente come signora Ah Il fantabosco Una porta In un tree? Non mi piace Sono bunghi Adesso escono Danilo Bertazzi e Lorenzo Brachetti Chi è? Brachetti anzi E sono 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 Non conosci Non conosci Come no? Quelli del fantabosco Sono Ah Non credo si chiamassero così Era Danilo Bertazzi Danilo Bertazzi e Lorenzo Brachetti Brachetti No nessuno Eh... Siamo in pazza Stiamo cercando di prendere l'albero L'albero E' un gigio? Si Ah questi ci avevamo visti Nel trailer tipo Sono cip e ciò Bellissimi Bellissimi Gli abbiamo rotti col culo sti barattoli Eh quindi Eh ma da sopra Da dentro è più difficile No Ci vuole A parte che abbiamo portato dietro un martello come se niente fosse Alza il barattolo e... Vedi a me Siamo in pazza Ma la vista è incredibile Poi? Poi devo dire qualcosa È importante Hai ascoltato di questo libro Dottor Hakim? Dice che è importante Perciò Perché poi Puoi diventare amici Perciò Se vuoi Puoi prendere il libro Ok Eh sei una maledetta strega Guarda te Scusa Poverina Ma che poverina Guarda che ha fatto la fattura lei eh Ha fatto l'incantesimo Ciao Agus Oggi va Wind quindi Agus Bene bene Ma siamo dei fil di fe... delle bottiglie Di tappi Adesso ci fanno le cosacce Eccoli Gigi Ma che voce Ma che voce Le plepi Le plepi Le plepi Le plepi Ma guarda quanti Gigi Sì 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 E queste sono le plepi però Ma oh Ma che brutalissimi Ma sono terribili L'ho detto che ero Ma c'era Ma c'era C'era una Specie di volo del calabrone Come musica Ma quanto è grassino Guarda che bello che è Sì E ghiotto di Antaro ragazzi Un'altra Una Le maledette Le maledette Le maledette Le maledette Pensavo fossero molto più grossi di noi Invece più o meno Quindi Vuoi andare a casa Sì E' un Investigatore lui No è un militare E' vero E' vero E' E' Una condizione C'è 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 La cicatrice sul volto proprio E' un duro E' E' Non Quindi gli squaiatoli sono dei figli di bottana Sì Secondo me sono bellini Dai Farà che bello quello dietro tutto Beh E' una signorina mi sa No? Wow No ma la voce è maschile però prima Ehi Ma che castoro Figlio di Odino Ma che castoro hai visto Ma che castoro hai visto Guarda La nostra foto famiglia Che potrebbero avere con quelli Non lo so Oh, sembra bene Ehi Questo è il mio underwear Eh? Oh, sicuramente una perdita C'è la mia di hand? Avessi amato quella underwear? Avessi amato Avessi amato Sì Stiamo facendo il briefing Adesso Marco Per partire Sì 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 Con un'altra Ma che non mi sono Bellissimo Madonna C'è un'altra cosa Dobbiamo distruggere le plepi Moro È il momento più bello della mia vita No Più bello sarebbe i ragni Però Avrei paura Gli scogliattoli L'agent 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 Un po' aggressivi Forse In questo senso Sì 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 Ma C'è un modo più civilizzato Che possiamo Move Ma io con le plepi C'è le plepi Sono balorde Ma non mi fanno schifo A me fa schifo i ragni Le plepi non mi frega niente Sono balorde Perché sono balorde Ma? Che aveva? Ricordi? Nel mondo reale? Nel nostro tree? Ti ho spavolto Molti volte Ma sparo fiammiferi Lo visti adesso? Eh sì Ma non saremmo anche qui Se tu Non avessi toccato Le plepi Invece Almeno Sarà la regina Alla fine Come boss Bello Se posso sparare Bellissimo Oh Sì Allora Almeno La mia plepi È ora Una parte sofisticata Di una macchina Oh Scusate Ovviamente Scusate 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 Oh No Marco Siamo divisi Scusate 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 Non preoccuparti Scusate 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 Anche questo In giro Spara Marco Al bersaglio Lo so Volevo vedere se Scusate 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 Ma quello mi sa che si ricompone ogni volta. Beh, sì. Ma credo sia semplicemente... Ah, ok. Basta. Era un tutorial. Ma se si era sui... Sì, certo. Devi far prima tu. Eccoci. Deve girare questo, deve girare. Ah no, se ti metti solo il coso... E gira. Sì, sì, me l'ha fatto prima il tutorial. Non gira più. L'ho messo dall'altra parte. Vai. Aspetta, mi devo grattare l'orecchio, Marco. Ah, posto. Ti sei? Grazie. Deve venire giù il ponte. C'è anche una roba qua sopra. Allora, il ponte... Basterà sparare lì a casa. No, secondo me... Gli appesantisci il tube. Ah, ok. Te lo appesantisci. Poi ce ne abbiamo. Adesso gli fai esplodere le bolle e possiamo andare su. Esatto. Ottimo lavoro. Nooo. Marco! Vabbè, ma a Mars torno lì, guarda sicuramente. Vedi? Vuole ingegno per le cose. Dessi tra battaglia scogli attoli vespe. E questo esplode però adesso. E fai esplodere tutto. Devi far esplodere tutto adesso. Ok? Guarda, non sapevo più dove guardare, ragazzi. Questo va appesantito. Tutto bene. Oh, godis. Molto semplice. Questo dobbiamo spaccare il colpo. Dobbiamo potere lì. Tutto in fuego. C'era... Aspetta, secondo me c'era la gran roba dietro, eh. Prova a vedere. Qualcosa? No. C'erano le ghiande. Bene. Buone le ghiande. Ah! C'era un buco, Marco. Ma non mi dice niente. È morto. È chi l'ha... Ah, sì, ho saltato effettivamente. Ora siamo tutti più pesanti. Più pesanti. Che paura. Fai soppare. Eccosi qui. Eh... Allora. Bisogna riabbassarlo e dobbiamo andarlo sotto. E salire sotto. Sono d'accordo. Ma che ingegno, ragazzi. Grazie Wario. Wario è Wario di Bari? È un Wario. Allora... Non credo serva adesso. No, forse no. Ah, guarda. Quello però dobbiamo buttarlo giù secondo me. Ah! Non ci arrivo. Prova a vedere la lattina qua. Ah, la dovrò pesantire. Sì. Che garroffi, Moro. Quello quindi cosa fa? Gira e basta? Dovrò fare ciò al suo interno. Quello non serve a niente. Sì. Prova a mettere il miele qua dentro la trappola. No, ci ho provato. No, ci ho provato. Allora, aspetta. Quello invece è quello là là sopra. Ah, sì sì. Riusci a far abbassare. Ah, sì. Ecco. Allora, Marco. Dobbiamo fare Tarzanello. Farlo... Esplotelo? No, devi farlo esplotere. Ah, aspetta. Vai su tu allora. Oh, donne! Tu tu tu! Arrivo, eh. Sono già strong. Zammai! Zambrotta! Poi qua ti faccio girare. Adesso io mi appendo. Vai. Voilà. E adesso finalmente posso mettermi... Devi dar la culata. Benissimo. Che ingegno, ragazzi. Beh, questo è il stesso discorso. Qua. Ok. Cosa ho fatto facendo questo? Dobbiamo arrampicarci, mi sa? Non credo. No, 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 no. Non credo, ma... Guardate quei testi che potevano. Questi potevano più potenti che pensavo. Aspetta. No, non ha senso. Non si sappiccia. Aspetta, ma se io... Aspetta un attimo, eh. Prego. Se tu fai così vai giù. Quindi sali là. No, sali tu. Dammi il miele. Dammi la resina. Sali, sali lì. Adesso vai lì davanti. Che prospettiva è? Mi devi far girare. Ottimo. Ottraverso. Moro. Oh, 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 oh. Oh, God, this. Tambien. Voila. Molto lavoro. ora ti giro questo siete qualcosa? si è alzato quello no ma mi sa che me lo devi abbassare prima aspetta che non ce l'ho salire prima vai tiramelo su ciao gatto ciao gattone voilà ok e qua dobbiamo semplicemente rompere le situe ciao gatto ciao beltadi ciao a tutti ma lì aspetta aspetta c'è anche un trombone eh c'è un bivio moro anche di qua si può andare ho premuto start è andato via moro eh oh no sono stato succato Marco arriva alle plepi ciao a tutti belli non posso uscire Marco no devi premere i pulsanti vediamo un po allora ma non c'ho più il cazzino così che succede no devi dargli no lo so ma così è start ah no aspetta stop no ma devi premere lì quei pulsanti lì ah così a mano proprio io stavo sparando ma che fai come la morte hai fatto è un test un test moro un test vediamo un attimo e con questo tu te ne vai all'altro mondo poi c'è questo qui Cosa corri cosa corri Gira ok Friday grazie mille poi c'è questo hanno fatto partire quello moro aspetta lo stopp sto non si stoppa moro Allora fammi prendere le ghiandine Così diventi una ghiandina Oh Merkel E' terribile, è terribile questa cosa Ma te stai prendendo il gioco di me Eh, qui sto provando tutto io Ok, allora ti libero Cazzo, è molto gentile Sto a fine gioco E cosa è servito a tutto ciò? A testare, ci servirà Vediamo, andiamo da questa parte Vediamo un attimo Andiamo di qua Stavo guardando la lavagnetta Ma probabilmente servirà dopo quel lavoro lì Secondo me no La Pixar, citazione? Una lampada Ma è quella lampada Più o meno Allora, vediamo un po' Marco, secondo gli appunti che ho studiato Sì, sì, sì Prego, fai esplodere Oh no Oh no, dovremmo uscire di qua Paura Pensavo arrivasse qualcuno Ora Vabbè, qua Esatto Sarà da appiattire bene Ah no, sta venendo da noi adesso Qua lo faccio esplodere Ma non ha saltato neanche un po' Ma Marco Neanche un po' ha saltato Ma aspetta Non c'è bisogno che ho fai sciopà Infatti non c'è bisogno Ma ho visto che hai rischiato Ma che dici Allora Gli esperimenti sulle ghiacce Le plepi Qua ci sono le plepi Insozzamele Io le insozzo Marco Ma miseria Ragazzi, nemesis Che pippe Le plepi Le plepi Le plepi Ma c'è da salire sul Un punticello E sicuramente Ok, lì mi fa mirare Quindi c'è qualcosa da farci Là dentro Provo a sparare con la resina Riempi bene Ah, uno deve salire là sopra Allora Marco No, tu devi salire No, devi salire Sì, devo sparare Io devo salire Ok E dovevi metterla prima Misa la resina Oh shit, Marco Torna di qua Dobbiamo preparare le prepi prima Riempimi bene il gluteo Ok, anche lì Arrivo, eh Molto bene, allora Pompami Pronto? Non era abbastanza rampito Ma dai Ma che è successo Riempi Rimpingualo Rimpingua bene Cazzami bene la randa Vieni su Eccomi, eh Vai Questa è la volta buona Just nice Bene Bravo Pronto Dall'altra parte Ah, c'è il rampino Vai Zambai Zambai In teoria devo venire di là io Qui c'è un colo Ah, aspetta Devo fare la scia Vai Ottimo Cascatolo bunde Perché uffagimono I stupondi Siamo fenomeni Qui c'è Sarà da dar fuoco Ah no C'è il buco lì dietro Ah, posso evitargli il tempo Che le stai tirando Uno da una parte Uno dall'altra Tirando il tempo Ok Ne basta una Ne basta Ma c'è da fare Il movimento pelvi Che faccio? Ma c'è della marijuana Attaccata Non è Non è vero Scusami E' chiaramente Una beta Aspetta Ronald Danus C'è da fare roba qui È moro Ma c'è la palla di pull Scusami 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 Non c'è niente Vieni qua Che c'è da tirare Delle biciclete Ah, qua c'è la C'è la festa Ah, dobbiamo fare Il tiro della fione Eh, qua c'hai le macro Tu però Siamo eh Far con la faccia 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 Fortissimo Ti spacco la faccia Ma dai Woman power Woman power Woman power Ti imbarazzo Marco Vabbè dai Sono fortissimi Io di più però Corri, corri Eppure perché voglio essere così allenato Corro eh E prende la telecamera Lunga Quest'inquadratura La train C'è un volt incredibile laggiù Ciao Mone Grazie bello Grazie bello Fuia 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 Mi possiamo fare Sfruttare questi Non gli trapassi L'ho attaccato dentro L'ho attaccato Ma scusami Ok Si riparte Noo il balletto Sessuale Minecraft Non l'ha detto ovviamente Però Andiamo andiamo Veloce qui rapido Mass rapido Ma io ho premuto Sto premendo io Sono veramente un binario Somp Ma che belli che sono ste parti Molto Crash Bandicoot Eccolo Fai al volo Marco Mamma mia Faccio un combattimento Secondo me Troppo Troppo grande St'arena E c'è un buco dei ragni Marcoli Davvero Il buco delle plepie Che ruota Ah bisogna girare quella No aspetta Ma mi sa che non servo io Ah no Devo col peso Eh si Da tutte le parti Aspetta che faccio esplodere Questo Ora fai esplodere Quando arriva su E' uno Attento le plepie Eccole Riempiele di cacca Ma che bella L'ho riempita Di pelli Riempi il besugo Aio Mi hai tolto veramente poco Fai esplodere Fai esplodere Fai esplodere quella Tanto l'ho riempita Di pelle Sta con me Dai devi farlo esplodere Bene Le cille Aio Ti è colpita Riempila di cugo Aio Non scrivo un cazzo Attento Oh god Aia Sono morto Marco Resisti Piri 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 Grazie Belli Grazie alle dice Bertaz Grazie Sto guardando Sto guardando Marco Ancora Ancora Ho padronanza Del linguaggio Ormai Olè Sto motorino Riempiele di cacca Travesse Travesse Non mi avrai Mi avrai Olè Ha detto Smoke weed Ha detto Smoke weed Sì 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 Grazie belli per le sub Tutto Grazie mille Ciao Linetto Ciao Linetto Oh no Uno scroto a pesco Sì Il sistema di sicurezza ha detecuto Tutti Oda Perché non hai inventato loro? Sì Siamo cercando loro Supreme Wasp Queen Sì 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 Supreme Wasp Queen Non dobbiamo combattere Pensavo di sì No Dovremmo arrivare lì dentro È solo una squirola dentro di un robot Sì Un robot molto 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 Un robot molto 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 E tenta di killarci Sì 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 È tornato eh Un po' coloco Culo No 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 Sono Vespe e non Plepi Avete ragione Ma ormai è tutto Plepi E ormai è fatto Ormai è tutto Plepi Questo è una operazione molto pericolosa Grazie per ricordarmi Tu sei benvenuto eh Eh Ho capito Ma a questo gli voglio strappare le pagine io No Ma t'ha preso in giro? A chi? T'ha fatto il segno del pollo e tu gli hai detto che è fantastico Ho detto che è veramente fastidioso No lui il personaggio ha detto che è fantastico Questo libro è fantastico ha detto alla fine Ma non è vero ha detto questo libro è veramente fastidioso Ah ho capito fantastico io Ma l'ha detto ridendo Ha detto annoying Non sa che state perdendo pacchetti No adesso si è sistemato Vai Ho perso un po' di pacchetti prima Scusate ragazzi ma Purtroppo capita C'è della vigna qui eh No le larve di Merkel Che belle queste voglio mangiarle ragazzi Che tipo mola Vai vai riempi riempi Inondale Ma non finiranno mai Prova a farlo sulla canna Ah si Vedi Parco sei astuto Allora Facciamoci strada Anche lì devi farti strada Inonda inonda Anche di qua Attento Moro che ti attaccano Aia Wup Wup Vai l'ho già messo anche sul più forte Vai l'ho già messo anche sul più forte Ah ma esplodono tutte quando fai esplodere il... Spiderman Spiderman Si sicuramente c'è da far roba Sei la... adesso ti riempio tutto Vai fai esplodere Una bottle Oh shit Bisogna tirare giù tutto per tappare i vetti Vieni 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 Fai esplodere sopra Fai esplodere sopra Marco eh Fai shill Oh, porca puttana! Ma un asciugamano! Ma spara le bombe, è un granadiere! Ma che cazzo vogliono fare? Schiva tutto, schiva tutto, Moro! Aia! Sono stato colpito! Ma no, non lo stiamo devastando, però! Oh, non è morta! C'è un HP! Ah, io! Moro! Sono morto! Vieni, vieni, vieni! Andiamo su! Sì, ma stiamo spaventando un po' qui, almeno! Eh, ragazza! E' buona cosa che cazzo ha! È vero? Qua devi appesantire! Ah, qui! Che sceme! Martino! Campanello! Oh, Marco! Eh! Fuia, fuia! Ah, qua dobbiamo tirare le plepuzze! Ah, dobbiamo fare una foto! Al Gigio che mangia i gigi! Al Gigio Rex! No, cosa hai fatto? Una foto? Una foto? Una foto? Ah, basta! Ancora! Le plepi contro i gigi! Nice! Un'azione! Ha fatto il tempo, ma! Ah, te l'ho fatta a metà, quindi! Interessante! Guarda come tecnologie antiche! Tecnologie... Bravo! Ahaha! Ahaha! Va beh, è solo per fare le foto, eh! Quick! Interposition! Da, voglio arrivare anch'io! Nooo! Me l'ha fatta al culo! Me la farà! Di filo, di filo pro! Fa vedere? Foto simpatiche della nostra famiglia Nice shot Sono io che arrivo lì con il culo nero poi perché Andiamo avanti Marco Ma questi qui Ma che erano dei guardoni È veramente tutto dei guardoni Corri, corri Dai qui non ci succederà niente Tranquillo Sembra di simolo, lo sai Le plepazze Sì, un zanzare, che sono? Non ho lo sciame Dov'è? Bellissimo come i cartoni animali Gravissimo Sto schivati Oddio Dov'è sono? Attento Pieno, pieno Moro Lo fermate ma Mi ho preso la botta Lo schivate L'altra Mi è finito il pippo Devo ricaricare forse Moro il pippo Lo fermate Quel poco che c'era di miele Di resina Quante merda sono Aia Aia Non mi avrai Non mi avrai Non arrivano ancora di plepi Riempile, riempile Gira, gira Gira, gira Pop, pop, pop Pop, pop Gira, 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 gira Riempile di cacca Oh no, ho potuto crollare il mondo Occhio alle plepi Riempile, neanche un po' Oh oh Amore, miseria Vai, nel buco, nel buco Mamma mia Vai, nel buco Sii Continua, continua Smanale, vale Smanale Vago ma dio Riempile di succo Braho Di succo Rompi tutto! E non fare domande! Corri! Non vedo le haple! Corri, corri! È a forma di post-it qua! Non mi pare, post-it! Riempile di grog! Di grog! Ma vabbè, questo basta schifare! Qui no! Sotto! Sotto! Le salto! Ma non c'è bisogno di fare niente, Margot! Prende qui! Ridronale! Sparo! Defecale! Ho lunga! Mamma mia! Corri Moro! Un buco interstiziale, Marco! Un fecaloma! Adesso riempi di sottimo! Mamma mia! Michael Bay, ragazzi! Sono morto! Un film di Gesù Stata! Con Gesù Stata! Ma io ero morto! E tu eri morto ma siamo vivi! Eccoci qua! Abbiamo combattuto! La parte qui diverteessi! O Wenn... O Car deerel! Oahhhh! O fotoo! Now!ʿm! Ma allora? Devo-igo depaired sul questo marzetto! Oh! Perché? Ciao nomey! Non si Memme sp costume ur Arabo! Ciao! Usaぎ! кладi non ti necessitevi di orecchie o qualcosa? non ci necessito di orecchie Cody, abbiamo un'auto si do, dove? eh, è in tua mano cosa? questo è un' Story ha capito? Sì, guarda. Dobbiamo stare attenti qua, eh. C'è da spara... Ah, ma c'ha la vita! Eh, perché dobbiamo sbattere il meno possibile, Moro. Non ci preoccupare, Marco. Moro? Sono tutti i tuoi, Cap! Devo difendersi io! Marco! Stiamo ricaricando! Sono dei dinosauri! Devo guardare ovunque, eh. Mario! Questo non lo tocchiamo. Ah, il buco, il buco! Corri, corri, corri! Madonna mia! Fai bla bla bla! Oh no, Marco, boss fight! No, arrivano! Come sul Signore degli Anelli! Dobbiamo andare a sinistra! Guarda che tranquillità! Come ci passiamo tranquilli proprio! Come ci passiamo tranquilli proprio! Ma io mi sto giocando ad otto! Personalmente... Sono musica di tensione, Marco! Davanti! Sì! Guarda! No! No! Sarà... Eh no! Aspetta! Ah no, guarda! C'è da fare! Vai 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 vai! Moro moro! Blo Blobba! Bravo! Blo Blobba! Blo Blobba! Blo Blobba! È difficile da dire Blo Blobba! Dov'è? Dov'è ragazzo? Dov'è ragazzo? Ma io sto sparando! Ah, devo aspettare! Ah, dobbiamo andare qui adesso! Dire il volè! Blo Blobba! Blo Blobba! Bravissimo! Blo Blobba! Ah, veramente! Guarda... Che roba! Moro, prendiamo un pello! Eh? Attendo che prendiamo un pello! Cos'è un pello? Un pallo! Ah! Piripiri 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 piripiri! Adesso arrivano le Plepi, sicuro! Eh, vedi, te l'ho detto che ritrovano... Eccole! ... le maledette! Forse vado da sola ora mi puoi aiutare? No, non va un cazzo! Siamo in conto umano! Io come le ammazzo senza le mele! Orca bestia! Non possono fare questo le Plepi, ne sono quasi sicuro! Un tornado? Eh mono, dobbiamo schivarle e basta, mi sa. A me si fa, si fa. Eccole. Che pelo. Non vedo. Ma no, bravo. Stiamo dentro il zucchio. Ritorna nel buco, mono. Devo riprendere in mano la mia vita. Questo è duro. Farello. Allora, però non ha preso danno il pippo qua. No, no. Avanza. Non c'è. What's that? Marco, davanti al noise. Leviamo tutto, leviamo. Guarda che c'è chi. Vai, Marco, apri il cancello. Apro il cancello dell'otticello. È tutto scuro. Mi sono proprio mirato. Io non schivarlo ci sono proprio andato dentro di proposito alla fine. Apro il cancello. Oh, come? Radessi e... Oh, wow. Hey, oh, poti! Sì. È morto. Chiunque? I pesci non possono essere legati, ma dovremmo andare a rinforzare. Guarda, l'aria è iniziale! Cody, stai a strada in fronte! Ok, ok, via! Sta scema! Sta cretina! Sta bastarda! È giunto il momento di andare a peri. Ah, Marco, devo riempire... di blomb. Ah, di succo! Ti è spaventato, eh? Sono caccato! È la medusa rosa, Marco! Bravo, moro! Certo! Ma come aspetti? Certo, certo! Cosa è certo? Poi non mi stessi! Non per niente! Oh, via! No, all'ultimo! Mi son girato, ho visto la schiuma! Ma sei un pappa! Vai lì, salta lì! Mamma! Ma non è possibile, moro! Ma perché non ce la faccio, ragazzi? È la cosa più facile che abbiamo fatto fino adesso! Ma veramente! Bravo! Ok! Tempi di succo! E ora... si sale! Wow! Qua c'è lo Shelob, eh! Che c'è? Shelob! Era Shelob! Wow! Wow! Oh! Questo deve essere la storia della storia! Oh! Fammi vedere! Vedi, la ruspa ha portato via la casa ai gigi! Sì! Quindi è arrivato Salvini! Eh sì! Una forbice, delle matite colorante! Un altro gigio che tira su delle frecce! La casa nel BOSTIC! Ora devi tirare il succo qui, eh! Scusami! Qua! Ho detto, perché si butta è pazzo! Non le avevo visti io sti cosi! AAAHHHH! Mamma mia! Che c'è? OeeYYEEZiiSi! PoPeace Ssss! And maybe! Eh Nazerloon! You're my wonderwood! OMG sh striking! Non ci ho preso! Alla comella! E poi Spawn Blepis Lì Sexy Love American Expo No Il bruco C'è un mostro marino Ma che è? Ma è Chiogre Ah sono morto Io no Ah bisognava andare sopra Ma invece si sono morto pure io Ah no bisogna semplicemente stare fermi Ah ha detto Vagine Vagine senti lo dice Ah giant Ah ok Cosa di catfish Ma come ci aiuta ora? Vagine Beh, beh catfish Non è pericoloso È abbastanza pieno per cominciare No 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 Che bello ragazzi Cosa stiamo guardando? Siamo a Gardaland Sto muovendo Credo che stiamo cercando di uscire Cosa è successo? Sono fermo Ah gira Gira Si è schiacciato come una formica zanzaresca Oh Eh non voglio andare sull'ala No Bisogna che non ci vado Bellissimo ragazzi È un po' la scena di Soul Quando sono nel Oh Non l'ho visto Marco Spoglio Bellissimo Soul Guardatelo Enigmista? Sì Ma poi cosa stai Cioè Marco Ma sai Ero distratto E stavo guardando te tra l'altro Quel poco che stavo guardando Non è anche me Voglio sparare Voglio sparare Voglio sparare Cioè Cioè Divorzano perché si drogano entrambi Comunque Sta facendo dei viaggi Pindarici Oh Oh Shit Marco 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 Sai che in l'Ottro Esiste tipo una Sdea? Come si dice? Sdea Una sdea Di ragni Che schifo Comunque era Shalob Vedi Non mi ricordavo male Beh Grazie che sei in buona forma E' vero E' vero In buona forma In questo mondo E' più Nemo Ma Nemo Non è bello Sì Quindi Sì Quindi sei in buona forma In mio corpo reale Oh Non ho detto Ma Hey Sono creato di clay Potresti Ruggire e fallire In questo In tuo corpo reale No Esatto So Enjoyarlo Sì Ok Ah c'è un tamburello Marco Toniamolo Dura lavandini Ah Dobbiamo salire sul prepuz Oh God Sono tornato indietro Aspetta Vabbè Hey Hey Come here Ah Devi andare Dall'altra parte Vai vai Bravo Marco Come Slypi tu Ma che fai Aiuto Aiuto Chi è Vai Slyfer Drago del celofan Allora Mira Lasciate che personali mobili Raggiungano il tuo lato Ah Noi Come in mo Noo Cosa di lunghezioni! Ho preso! Certo! Oh, uccidio! Cosa miseria! Certo! Ma sono pieno di booster Ho fatto un punto ho fatto Ho vinto Ho fatto uno Andiamo avanti Marco Via Via volando Marco sai dove dobbiamo andare Io stavo seguendo la scia della vittoria Mi fa male i piedini C'è un'altra Un altro viaggio fin d'arico Corro, corro, corro In preda alle metanfetamine Eccomi qua Perché solo quelle possono essere per farti vedere Sto no Eeeh La scisce Un'altra plepe Stiamo andando Oh portami Ma non posso sparare Ah dobbiamo schivare e basta Ah ma io sto guardando te Marco che fai E ma continuo a guardar te E non guardarmi Ti confondo Perché hai una roba blu in mano E sembrano i miei capelli Ma sono dentro il buco Ma senti che bella la musica Sto no Ehm 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 Spa Non potete farci niente Faccia di Serpenti Spacchiamo Ma che è questo posto? Eh, non lo so, ma... Si sembra abbastanza angri. Ma che cagliaccio, pippo. Riempilo di cacca da dietro? Ah, qua sotto e poi bisogna fare esplodere. Oh mio Dio! Stai attento, Morelli. Qua ci sono queste cose da fare esplodere. Ah, sono morto. Oh, devi stare a tensioni. Aia, vi si sorta. Qui, bisogna fare esplodere qui, Marco. Ma non mi mira. Ah, lo riempio, lo riempio. Ok, dentro salta. Vedi, vedi. Riempiamo un altro bus. A parte che adesso si arrabbierà, ne farà di più, esatto. Dai Dio. Resisti. Riempi le grotte, l'ipsi. Nooo. Qua, qua. No, prima, Marco. No, Rally. Aia. E' morto. Sì. Ma scusa, se faccio senza riempire i bus? No, devi riempirli, se no non mi mira. Riempi, 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 riempi. C'è Platone diventante. Vieni qui, Ciampiero. Fatti prendere. Oh. Non importa, non importa. Vienimi a prendere! Vienimi a prendere! Uh! Non devi venire! Marco. Fallo venire, fallo venire. Mi raccomandi, eh. Bravo. Bravo, riempi la grotta Lipsia. Oh, era un po' da bere! Vienimi a prendere! Ah, mi ha dato l'ultimo botto! Oh! Oh! Ehi! Ma di morire! Oh! Oggi, oggi, oggi! Ma di morire! oggi, oggi, oggi... Scaldi, oggi... Ehi, oggi non... Oggi anche le patote! Oggi... Ehi, oggi... Oggi sono carico! Oggi ho primi. Ho scaldi, oggi. E' schiavizzato, quindi le plepi sono terribili Ma come? Oh, sono vegetariano e gratis Ma come? Ok, beh, sai la Queen? Ha tutto il nectaro Quindi se tu aiutarti a prenderla Puoi avere tanto nectaro che vuoi Posso? Sì, ha fatto? Voglio la figure di questo coso Andiamo Che schifo Ah, io devo sparare Ah, io devo guidare A cosa devo sparare? Mestia, ha preso una botta No, Marco Eh, ma non posso sparare all'Africa Pacco tutto, pacco Pacco Tutto Parole plepi Mannaggia Corri, corri Le barbe Le barbe Le barbe Madonna Wow Guarda che ha una vita Eh, lo so Spara il pettine No, ancora No, ancora no Scusate Mamma che bellezza ragazzi Peste e goti Peste e goti Peste e goti Peste cadono Eh, lo so Posso girare? No Che è tuo rumore Qua ne arrivano grosso eh No, le pitte No, le pitte Ma chi l'ha vista questa? Ma ero lontanissimo da qua Cioè abbiamo proprio dove Poi Il O Facciamo, facciamo belli concentranti Ah, ci abbiamo usato dalla vita Uber easy Mamma mia Non è così facile mirarle Eh Hey Beetle Eh We're running at a tree Yato Beetles Come I believe Come I believe A slight tear Vedi un'altra citazione Io posso No Non è così Non potrei volare anche più su Ma ci stanno sbombardellando a Beste No Stiamo precipitandolo Perché fa il fumo Oh, vabbè, 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 vabbè Vabbè Che brutti questi tagli però Jump on it Nooo 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 Sono tristissimo Sono la persona più depressa della Terra Oh, la Gerigina Gerigina eh Ma è finta È una teiera In mezzo In mezzo In mezzo In mezzo In mezzo In mezzo Morro, dobbiamo vendicarci che ci ha ucciso l'amico Fritz eh È il nostro supremo Tu col tuo sapone liquido Io quindi i fammiferi Vai Io col sapone Vabbè, spruzzano Prendi le plepi Le prendo sì le plepi Intanto io riempio di plepe, bravo Anche sotto, anche nel culone Via, via Oh, ascoltate Lì Siamo lentamente Riempili di sugo Oh no Devo prendere qui Vado Succo di Regina Dietro nel sedere Non quella Ci mancherebbe Oh god Eh ma, come fa? Come si fa ragazzi? È tutto rosso Devo andare dall'altra parte Io mi sa Bisogna andarci nel momento giusto lì nel binario C'è il binario che li gira dietro Sì Vedi? No, Marco ha detto nel momento giusto È il momento è giusto Era giusto il momento Ho attraverso Sono morto Non so come, non ho idea Vai, spara alle pipel Spada e scudo Poi vai dietro che ho riempito di robe Ah ne ho già sparato a lei dietro eh Ancora, ancora Gli ho riempito il culone Maia Maia Maia, ha preso la botta sotto Rinascerò Tempo a primavera No, mi ha messo lo scudo Le plebbi È distrutto in Temboss Vado dietro Vai, vai MC Sì Ah, mi ha spiaccicato Arrivo Riempì di girl Vetti un giro Vado dall'altra parte io Vai ho riempito il dietro Mi ha rotto la sedia Mi è andata una manata No, sono rimasto sonno Eh, sì La prima guerra mondiale Oh, pelter È diventato Sì, attenzioni Oh, bella miseria Oh, boffi, mi è caduto addosso Fammi farinacere in mezzo al casino Oh, lele Non possiamo sparare Pensavo fosse diventato un double stick shooter Vado a mettergli la colla Te la colpisco Salto È il mio momento Aia Schiaffeggiano le pelli Mi hanno preso le plepi Ma, beh Non mi avranno Non mi avranno mai Sono delle forbicine queste che se ne pregano Arrivano Ah, ma si allungano, eh, occhio Fanno gli scattini adesso Non mi avrai Mi hanno schivato Uuh Una Uuh Vieni, prosciutto melmone. Era una batteria, l'ho sentita. Siamo morti. No. Ah. Che danone. Che danone. Ah, la catenella. Non riesco a prenderla, devo fare un altro giro. Ahia. Colpita. Ahia. Ahia, stop, schmel. What time is it? Marco, la catenella. All travesse. La catenella. Ok. Colpita la catenella. All travesse, la catenella. Aspetta, che ci sono gli scudi. Vai, ho messo la colla. Ho messo il succo nella catena. Bravo. Sto per svenire io, ragazzi. Che bellezza di gioco, ragazzi. Che bellezza di gioco. No, è un bombo. Ma che bello. Però è un gran figlio di mignotto. Le zampette. Le zampette mi fanno un po' vomitare, però. No, no, no. Ho detto, vedi? È un robot. È un stupido bambino. No. Ma io gli spago la faccia. Guarda, è un bomba. 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 Non prendi il bomba. È un bomba. È un bomba. Ehi, aspettate. Ma non può... Già il bomba non può volare di suo. Ma non può volare di un bomba non può volare di un bomba. No, il vetro, no. È Franci come si può dire lì. Non ho niente per vivere di oggi. Non ho niente per vivere di un wasp, quina. Qual è il punto se non puoi essere speciale? Ma sei speciale. Sei uno dei pollinatori più nobili della natura. Ho, ho? Sì, ovviamente. Questi pollinatori che fanno 90% della popolazione umana. Non voi. Ma i umani potrebbero solo morire. È vero. Sì, quindi sono speciale? No! Sei un traitor! Oh no. Adesso sono diventati loro i cattivi. Sì, bisogna aiutare a salvare noi. Sì, e tutti i waspi sono indispensabili. No, secondo me no. Scusate loro tutti! Ma è cieco da un occhio. Eh sì, gli storo trooper. Sì, veramente. Basta, commettetemi di sparare. Abbiamo chiuso la porta e non ci avete preso un... Il peggio. Sì, abbiamo chiuso la porta e non ci avete preso un... Dovamo ucciderla, vedi? Sì, vedi che era una gran figlia di Androffler. Riappri la porta, per favore, che gli faccia sparare. Ma vogliono sparare anche a noi. Adesso perché gli abbiamo detto di no. Era veramente una terribile vacca, eh? Questa zanzara cicciona. Guarda che camminano tutti i ciccioni. Scusate di fuoco! Sparate i canoni! Scusate i canoni! Codenni! Scusate loro! Go, go, go! Verda, Marco, io guido. Sono uno sparriere. Sono delle mutande, è vero? Sono le mie mutande. Non lo spaventare. Non lo spaventare a nessun altro. No, solo aiutami a scuovere il camion. Scusate qualcosa. Non lo spaventare. Wow, ma era un pentolino? Dovevo andare a destra, Marco. Spara al Peppe. Scusate, sali, inchiummati. Codenni, le porti si chiudono. Non lo spaventare! No, sprinta! Io rompo quello dietro. Ma che coppia, madre. Non fallo, Morro non ci fermerà. O forse sì? No, no, sprinto anche, guarda. Oh, shit. Non è che faiura. Non è finita, mi spaventare. No, sparagli! No, non voglio sparare i Gigi. Marco, devi sparare i Gigi. Non posso sparare i Gigi. Spacca di coglioni, Gigi. Sparagli! Meno male, c'è ragazzi, voglio sparare io. Sì, sì. Sparagli, Marco. No, ragazzi, no, non lo voglio sparare. Sto facendo, lo voglio. Da davanti, Marco. Ma come davanti? Dove anche girarlo, sto controvero, lo qui. Sto distratto a me, perché fai un po' di caldo! Dietro, Marco, dietro! Ma che dici, dietro, davanti? Ahia, sbattei! Moro, tu puoi non guardare. Guardo io, per tutti e due. Ma è troppo lento. Come faccio a girarlo ogni volta? Lo spari a buffone. Difenso io! Gli giumboli! Oh, leppe! Manovra X! X-Men! Infilati! Turbeggio! Dietro, Marco, ci sono gli scogliattoli Gigi di merda! Povero Gigi! I Gigi mal! Non avrai il mio tifo! No, 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 no! Escalate, quickly! Fermi! Fermi! Ci tirano i polpettoni, stai attento. Tagli di tifo io! Faccio le manovre che non si aspettano, le manovre a Y. Ma neanche io me le aspetto! Non è vero, Franci! Gigi... Corri! Ah, eccoci, Marco, finalmente. Attenzione! Un antruso! Uccidilo! E non sono più io! No, ragazzi, sono proprio io contro Gigi! No, ragazzi! No, è diventato un picchiaduro! Ma è bellissimo! Ah, scusa, devo guidare io! Gigi, non mi far arrabbiare! Gigi, non mi far arrabbiare! Sei incazzato! Fagli una presa, fagli una presa! Che, non la fa la presa, è solo pugno caldo! Scemo! Schiva! Gigi! Ragazzi, non può non essere il Gothic, questo gioco! No, mi è partito un volante! Ma... Go, mano! Non mi farò! Non mi farò! Non mi farò! Non mi farò! Sono qui! Ragazzi, è un capolavoro questo gioco! Io non so cosa dire! Oh, siamo Delta Plepi! Siamo Delta Plepi! E come se... Dobbiamo spostarci! No, vedi qua, vedi qua, Marco, dobbiamo collaborare! Mezzo, mezzo! Mamma mia! L'osteria! Equilibrati, equilibrati! Mezzo, mezzo! Marco, do un po' troppo! Mezzo, mezzo, di qua, di qua! Sta lì sopra! No, aspetta, eh! Gira, gira! Mezzo, mezzo! No, di qua, adesso, di qua! Digi! Mezzo, mezzo! Poi gli hai sventato a destra! Aspetta, bravo, così piano! Ti do una mano! Mezzo, mezzo, dritto! Più di qua! Ottimo! Un palo a destra, destra, moro a destra, 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 destra! Riprendi da i mutanni! Ci siamo, ci siamo! Cos'è qui? E' bellissimo sto posto, voglio giocarci! A Bug's Life! Oh merda, Marco! Ostia, miseria! Ci siamo a cocconezzo! Oh, come... Io pensavo che ci stesse per far atterrare, per cui ero un po' imbabolato! Allora, andiamo a destra! Marco, a sinistra! Mana! Vai, vai! Cape of Voice! Tira su, tira su! Giro tutta! Tre... sì, tre pizzi! Sì, a destra! Mezzo, mezzo! Ma a posto! Mamma mia, ragazzi! Box in questo giro! Mamma mia! Ma chi è? Chi è bambullare? Sta dormendo la mamma, non ruba la bombina! Poverina, è sempre da sola la bombina! Oh! Do you have that headache again? Una piccolina, dai! Ok. I won't bother you. Lo stai facendo però, eh? Perché puoi spiegare con la bombina? Ma abbiamo toccato con il spazio? E tutte altre spazio? Che hai per me? Non toccato con quelle called? Oh, e... ho parlato con papà. Credo che vuole parlare di nuovo? Ho parlato con papà? Ho solo chiesto di sapere. Che io abbia mai visto, comunque. C'è una piccola viola? No, dai! Dunque la stanza con le nuvole e il cielo è proprio tua storia. Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Beh, ma credo che dell'ispirazione ci sia. Oh, haha, sei davvero camminato. Dai, c'era anche la... la Pixar. C'era la citazione a base che non ce la fa volare ma vola. Ma quindi, lo scarafaggio è morto. Si. Non è sbattuto un cazzo, poverino. Volevamo parlare con lui. Sì, ma dovremmo essere attiati, non vogliamo scappare. Stai dicendo che sono troppo male con lui? No, no! Mi chiede che lei potrebbe essere scappata quando la vediamo. Cioè, guarda noi. Abbiamo diventato un paio di dollari, ricordi? Certamente ricordo! Oh, no! C'è paura! C'è paura di parlare con Ro? C'è paura? C'è paura di parlare con Ro? C'è paura di attraverso? Con questo non ci sia. E se? C'è a un problema. C'è. C'è? C'è capisci? Non credo che voi vedevi! Catté? Catté. C'è chi lo scelto per spettare? Credo che è roba. E ci ci diranno? C'è la cosa? No! scappiamo dai aspetta è il fortino di cuscini ma che bella la grafica guarda aspetta qui c'è da spartarci la faccia vai Marco qui ti spacco io non so cos'è dai cararmatini oh no ho perso una wita perso una wizz ne avrai ma pippozzo ma tu sei dietro sei un bigliacco che bigliacco ho vinto io scemo capo nel bus ma non è un bus è una cosa marrone una palla di pelle la giro e diventa di pelle non è successo un cacchio non è successo una torcia poi accendo guarda assumiamo l'elettricità bellissimo si della pila tra l'altro ci sono i bambi ma sono quelli di a way out Marco ma che storia io ero questo ero ma come contro aspetta mi si è scato io ero fac di ossi all'era marco aspetta mi si è spettumato il flepe ma che dice ma che bello mi mancano marco dai andiamo la lava lamp ma di quadrati ma non esiste puoi interagire con tutto ci sono dei stick facciamo la sfida dai sì sì è con qualche tipo di forza oh guarda un videogame magari sono connessi internazionale internazionale oh buongiorno buongiorno ha qualcosa di vero con il hack oh no bisogna continuare ma che schifo io non voglio giocare a tetri ok sei così lunghi è così lunghi è così è solo un gioco cody ah bisogna farlo felice sto mettendo le corna subito oh no ci stanno acchierando ma non lascia venire acchiera ferma moro la y devi premere plepemente è certo che premo plepemente cosa succede non lo so ma non mi piace però non mi piace no siamo dentro il gioco adesso più questi no mumbo bobo boom 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 come sei il mio nome traitor perché ti ho comprato nel museo di spazio liar 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 mi ha chiesto nel museo di spazio e mi ha commissionato per una missione speciale io sono l'unica che potrebbe proteggere Rose dal strano del universo come andava sarri siamo anche un signo per proteggere Rose come i bambini siamo stop lievare la tua missione è di farla cricare che è attenzione c'è la sgammella che è di quale il pianeta sei da no no c'è c'è una misunderstandia vedi ci siamo bisogna trovare un po' pelle da Rose tu non sguisare un po' pelle da Rose tu sarai qui Non ti preoccupare, per sempre! Per sempre? L'ho solo detto... per sempre? Oh mio Dio, ho avuto un attacco di panico. Non possiamo... In spazio? Niente non può sentirti scrivere! Oh, per favore di dire, Cody! Non sei stupido, non siamo in spazio! Cosa? Cioè, dove siamo? Ecco, Rosa e io abbiamo spazio con le sue storie spazio tantissime volte che ho bisogno di trovare! Oh, scusate! Eh, Cody, provi questo! Oh, scusate! Oh, scusate! Cosa stai facendo? Cosmica conflazione! La teoria conflazione dietro la Big Bang! Ti ho in mano! Oh, scusate! Oh, scusate! Oh, scusate! E' la scatola come Buzz Lightyear, come Zurg, vedi? Ok, quindi io sono Ant-Man... ...e io sono Saltelloman... ...e io sono Saltelloman... ...e io sono Saltelloman! ...e io sono Saltelloman... ...e io sono Saltelloman! ...e io sono Saltelloman! Oh! Come vengono a prendere tutti i giudici? ...e io sono Saltelloman! ...che tu è il nuovo Cody? Come tu potrebbe essere se qualcuno si aspetta a perdere Rose. Sì, ma non ci si aspetta a perdere Rose. Cioè, ci dobbiamo solo di perdere l'esercito, così che possa perdere l'esercito. Ora, continuiamo. Per favore! Sì, sì! Per questo è alto! Beh, dovrebbe essere la torre di comunicazione di Maboon! C'è una ruota di controllo all'interno! Se possiamo arrivare qui, credo che possiamo farlo fuori qui! Abbiamo l'esercito! Praccio a Tencrack Qui sono! Grazie Saro! Grazie, bello! Oh, guarda! Si, sembra di qualche tipo di forza. Proviamo! Oh, non sappiamo dove sta! Possiamo tornare qui! Vabbè si tratta di qui! A me ha Nemesi su TTT, ragazzi! Zero! Gli sono incredibile! Ehi, guarda! Ehi, guarda! Ehi, guarda! Rai a te, lo so! Tu ti la facciano servire! Oh, no! Sono volante! E io? Guarda, ragazzi. Guarda, sono delle vostre! Credo che possiamo uscire la torre! Oh, mio Dio! No, mi sono state venire qui! Sulla Что reduzione! Provemosi a sparare contro il coso lì dentro! Eh, ma aspetta! Non so più dove sono! Eccole! Dentro il coso lì? Ma mentre dentro qui? Che mira del cacchio. Intanto io faccio robe di qua, si sa mai. Eh ma non ce ne sono più di stelle. Ma se entro anch'io che succede? Ma vorrei di qua. Ma che succede? Oh, dove cacchio sei entrato tu? Oh madonna. Forse qua. Ah devi venire anche tu Moro, non posso farlo da solo. Eh mi sa se dobbiamo farlo insieme, non puoi venire tu di qua. Che altro devi camminare lì sopra. Eh da mo' dove sei entrato tu? Non lo so. Ciao Chievo. Prova un altro tubero. Eh esci da... vediamo entro di qua? No l'altro, l'altro, quello dei pianeti guarda. Quello lì è rosso? Sì, secondo me sì. Ah non è vero, sopra da me c'è l'insettone qui. Era giusto quello di prima. Si scappa. Eccoci. Bene. Cammino sopra il pallone. Eh sì, vi è andato via Moro. Come cammino? Io so quando tornare con calma Marco, ti frettai. Certo, ciao ma figurati. Ciao Marco. La Sky. Come la Nissan. Non basta che corri al contrario Marco, perché stai facendo questa cazzata? Perché saltavo. È certo. Eh, aiuto. Non pensavo andasse da sola, pensavo di doverla muovere io. Ok, vieni a schisciare il butun là sopra. Sopra la porta qua. Qual è la porta? Quella dove sono addosso io. Una porta? Che storia. Marco, qual è il tuo problema di... Non sto capendo dove devo andare. Sopra. Eh, grazie. Dove si sale? Ma tu puoi fare... Ma tu puoi gravitare. Ma non quando voglio, deve esserci un qualcosa che mi fa gravitare. Ah. Però... Aspetta. Ma quello lo potevo fare anche io, credo. Eh, ma io devo avere il posto per gravitare. Non posso far quello... È lì, guarda. Lì c'è un coso per gravitare. Ma come ci vai? Eh, boh. Andiamo. Salta sulla sfera spaziale. Ah, perché rimbalzo lì. Aspetta. Ah, aspetta. Ti devo portare... Aspetta, eh. Ma devo riportare dietro. Vai lì ai palloni. E mi devi portare io su sopra. Prego. Prego. Eccoci è. Risalta su. Oh, scusa. Stavo guardando te. Non guidavo bene. Ma posso andare. Pi 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 ri ri pi pi. Allora. Ora come dobbiamo arrivare? Devi diventare piccirillo piccirillo? Può essere. No, dovrei fare... Faccio la batteria. Ma come ci arrivo io là sopra? Tiramelo giù, spostamelo giù qua. Mi tiri su. Vai. Che casino. Sei pesantissimo, morla. Ma scusami. Vai. Eh sì, eh. No, devi portarmi su nell'angolo. Vuoi salire? Orca merda. Scusami. Ma... Oh, scusa. Aspetta, arrivo, eh. Che casino, ragazzi. Pensavo di dover diventare grande per poter saltare di più. Vai, tirami su. Scappo, scappo. Vai, 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 vai. Ok. Fausto. Adesso devi pippare la pila. Perfetto. Possiamo andare a fare gli altri. No, non è sicuro che questa è una buona idea! Un pozzo sotto, due per andare. Sì, abbiamo questo. Vai. Il pianeta era quello che stavi facendo prima. Eh? Era quello di prima? No. No. Questo è del tutto nuovo. Allora... Dobbiamo salire su quel pianeta là. Allora... Ma sono bellissimo! Ok. Volo, azimo! Non ci arrivo. Pensavo mi sbattesse nella faccia. E tu chi sei? Ti faccio volare. Ah! Che cazzo fai? Vieni qua, vieni qua. Devi salire sui pianetini questi qui o ti do una schiaffa grossa? Non lì. Aspetta, eh. Quello devi salire esatto. Che palle! Tiè, sali sull'altro. Aspetta, rifai. Non ero pronto. Ah, qua. Ho la telecamera dall'altro lato. Vai. Tiè. Adesso arrivo, eh. Dove devo andare qua? Da quella parte lì mi devi spingere. Pipo, 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 pipo. Tiè. Ok. Ah no, ma io c'ho la pista di qua. Ah beh, easy allora. Però mi devi tirare su a me? O la pila lì finalmente è giusta? Dami un minuto! No. E come faccio verso qua io? Vediamo, eh, probabilmente servirà questo percorso qua in più. Ah, qua dove vai? Morire, a quanto pare. Allora, questo percorso servirà a qualcosa. Ah, aspetta, dietro. Ti devo fare la scala, aspetta. Allora, quello di fianco, fai quello di... Vai in fondo. Ok, sì. Poi, quello... Questo qui? Sì. Faccio andare tutto così a zig-zaggo. No. Questo. Ma fordissima. Allora, poi vai di qua. Io muoio. Madonna mia, che fastidio, che casino di... Che vomito che mi crea. Vai, schiscia la balaustra. Sì, situazioni di tutto c'è in sto gioco. Pipozzo. Sì, sì, no. Lo facciamo tutto, ragazzi. Siamo tutta la sera e tutta questa settimana. Tutta la mattina. Tutte le mattine. Sì, ci basta. Con me sì. Oh, ma aspettami. Questo è quello in 2D. Arrivo. Io vado di qui. Ehi, spacerina. Come si sta? Non mi piace, ma sono bene. Che figura di merda. Sotto sopra è un casino, ragazzi. Che figura di merda, tutti e due. Sotto sopra è veramente un casino. È difficile. Eh, deve abbassarti. Come si si abbassa? Con la B. Ah, con la B. Madonna mia, al contrario è veramente difficile. Da un po' di nausea, sì. In alcuni punti capisco che sia un po'. Voilà. Qui sembra a testa in giù dove andare. Ah, tra l'altro qui non c'è nello split screen. E io? Ah, devo tornare di qua. Aspetta. No. Aspetta. Ah no, covacciati. Lì ci passi. Ah, che storia. Sono io che non ci passo. Aspetta. E tiralo su? Cioè... Ah, non puoi lì saltare giustamente. Aspetta, vediamo se c'è qualcosa di qua. No, nella... Lì. Non sei preso, Mario. Ancora? Di più. Ah, perché dovremmo fare insieme. Eh no, allora c'è un modo. Aspetta. Probabilmente devo andare dietro e farti fare qualcosa... No? No? Ah, io mi posso rimpicciolire, è vero. Ma vaffanculo. Non mi ricordavo. Porca misera. Ah, io ho sbattuto la testa. Scusa. Ho fatto la balaustra e io ho il pifuzzo. Hey. Che lavoro, ragazzi. Che gioco. Un attimo, arrivo, eh. Sampai. Che tutto a testa in giù devo fare, che casino. Ti sparo, eh. Ti sparo. Non devi prendere nel fuoco, lì. Vai, ci provo. Beh. Che proiettile. Dammi un attimo. Ma forse posso fare di meno. Per caricare un po' meno. O così un po' troppo. No, di più. Più, di 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 più. Ok. Vieni qua. Oh, che bella tazzina. Il cappa più bello romono. E io? Ah. Certo. E io? Ah, posso, c'è la fessura piccola. Ma io tutto al contrario, devo fare. Un attimo, eh. Sopra imbriacarmi. Ok, direi che non è così che funziona. Vai, ti puoi appendere da me. No, più vicino. Ah, Marco. Ho sbagliato il tasto adesso. Ok. Che mamma mia. Sto per sboccare io, ragazzi. Vai. Aspetta, anche io devo lanciarmi. Vai. Che casino, ragazzi. Marco, ma dia. Vabbè, tanto rinasco qui. Oh, ok. Aspetta, quale è l'interno? Ehi, pure la laterale. Vabbè, 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 vabbè. Ma non ci sarà la batteria, immagino. Oh, ragazzi, finalmente. Ah, scusami, devi andare piccolino tu. Tiè, ciò farà lasagna. Ragazzi, però sto gioco è veramente incredibile. Sarà anche incredibile, ma devo andare a giocare a Monster Hunter. Correrai con l'analogico. Abbiamo fatto tutto, in teoria. Adesso manca questo, che appunto è già aperto. Adesso dobbiamo tirare tutte le leve. Ah, forse tu due insieme. Aspetta, eh, non tieni. Prova. Oh, streghetta. Oh, here we go again. Oh, mi piace veramente essere pescato. È come essere in un vero spazio. Questo è divertente. Questo non è un'idea di divertente. Oh, quindi ora, abbiamo anche bisogno di rispondere al ciò che è divertente. Oh, mi piace, ok? Oh. Ma non è divertente. Oh, mi piace. Ah, 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 ah. Stoppare il fatto, YouTube. Focando sull'intensione. Noi, ci stiamo cercando. Ah, 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 ah. Cosa, ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Non dimenticare! Oh, fermate voi! Collaborazione! Collaborazione! No, adesso stacchiamo! Le facciamo domande! Non lo so, non lo so! Marco, vieni qui! Eh, te la voglio tirare addosso! E fermo! Prova! Perché le cose che abbiamo comprato cercano di uscire? Questia! Allora, beh, la prossima volta ripartiamo da qua! Sì! Abbiamo i nostri lavallini! I nostri cosi! Molto bene, molto bene! Mi sta piacendo veramente un sacco, sto gioco! Veramente, veramente tanto mi sta piacendo! Ah, et voilà! Amici! Fantastico, veramente! Che dire, che dire, che dire! Eh, Geogaster stasera! Mi estiro! Stasera Geogaster, non vedo l'ora! Non vedo l'ora! Facciamo anche quella di solo scegliere gli stati stasera, eh, comunque! Va bene! E lì ho fatto una streak di 6! C'è chi ha fatto le streak di 300, ma quelli non contano! No, certo! Sono dei cheater, chiaramente! Amici, grazie ancora per essere stati qua con noi! Continuiamo domani mattina, come tutte le mattine nel corso della settimana! Sì! Grazie TheWi! TheWi! Grazie RiTheWi! E noi ci vediamo, appunto, questa sera con Geogaster! Quindi un saluto! Ciao Belli!